volete imparare a usare il diaframma dovete imparare a ridere ciao e benvenuti nel canto in tre minuti di sabrina siani oggi vi mostrerò un esercizio fatto insieme a gloria che è una mia carissima allieva e ascoltate qua allora facciamo qui una triade con l'h sulla i e a o ribattendo due volte come se fossero delle piccole risattive ok rimani con l'aria proprio più aria metti più corti sono e migliore vai molto bene vai yes ok senti il diaframma con l'ora bravissima rilascia il coro e le spalle ok attenzione all'acuto ok come se ridessi facciamo l'acuto all'acuto ancora bravissima ancora ok adesso facciamo il contrario fantastico ok tranquilla adesso metti più aria ok vai bravissima yes quindi piccole risattine anche davanti intonati vocali a scelta potete poi utilizzare anche questo esercizio per cantare mettete davanti un po' di ok il trucco è quello il diaframma è uno e bisogna imparare a usarlo ciao 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 ciao